Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Ricola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est e tra Prato Ovest e Pistoia. L'area di servizio di Serravalle Sud è sprovvista di benzina per un guasso all'impianto. Sulla Fipili fino al 28 febbraio per lavori, chiusura della corsia di sorpasso dal km 75 più 700 in direzione Mare nel ramo di Pisa. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. La viabilità cittadina a Firenze dalle 21 di stasera per i lavori della tramvia, operazione di allestimento del cantiere in Viale Lavagnini da Via Poliziano a Viale Strozzi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.